Salve a tutti e rieccoci qua su Lichess, oggi si gioca, rapid, facciamo una bella rapid, giusto per riscaldamento, bene bene bene, avversario più o meno da pari, servirà il massimo impegno per il nostro terribile C4, do you speak english? Vediamo quale sarà la sua risposta, mentre mi devo ricordare anche di attivare i suoni di Lichess, F5, una bella sfumatura dell'olandese, e allora procediamo qua con D4, anche se io contro l'olandese vera e propria preferisco ben altro, cavallo C3, in seguito provvederò a giocare sulle case chiare attraverso l'apertura tematica del fianchetto, G3, mentre lui sceglie questa bella linea, qui alfiere B4, un po' particolare, ma non cambiano i piani, alfiere in G2, se lui prende pedone e caricatura, co maggiore densità al centro, lui sceglie invece di arroccare, cavallo F3, e andiamo a creare arrocchi omogeni, let's go! Donne in E7, creare subito una batteria con il controllo delle case scure, qui arrocco corto come ho già detto, e impariamo, cerchiamo di essere completi, tattica e strategia, che compongono gli scacchi, il medio gioco in particolare, ma tutto. Io ho sempre pensato, infatti, da tanto tempo, che tattica e strategia compongono gli scacchi, così come protoni e neutroni compongono l'atomo, poi ci sono gli elettroni, giusto per fare un po' di ripasso. Questo lo pensavo sempre, fin da quando ero a scuola e l'insegnante spiegava, mentre io pensavo solo agli scacchi, anche all'epoca. Un giovane terribile. Donne in C2, quindi, rafforziamo adesso il controllo del centro, delle case chiare, qui anche una spinta in E4 è un sogno che dovrò realizzare. Lui può cedere la coppa degli alfieri da un momento all'altro, quindi sulla falsariga della nimzo indiana, quindi alfiere per C3, non avrò certo alcun problema a riprendere proprio di donna. Invece sceglie C6, una difesa molto attenta, quindi a questo punto posso anche interrogare, visto che l'alfiere camposcuro, qua, come ho già detto, donna per C3. Un po' come la variazione capablanca, variante classica contro la nimzo, sempre seguendo lo spartito del caro vecchio Aaron Nimzovic. Bene, qui è completo lo sviluppo, alfiere in G5, cercando di attivare maggiormente tutti i pezzi. Qui H6, va bene, H6 ci può stare, anche se va a indebolire subito l'arroco. Alfieri in E3 è una mossa da effettuare spesso in questi contesti, anche se da un certo punto di vista è antiposizionale, può essere molto utile in seguito. Dico antiposizionale perché vado a bloccare il pedone centrale in E4, però qua non ho più materiali sufficienti, pezzi, per appoggiare una spinta. Inoltre io detengo la coppia degli alfieri, quindi ho una marcia in più sulle case scure, il che torna tutto a mio vantaggio. Il nostro caro, non ho guardato il nome, Sergei, qui gioca a cavallo E4, con diverse spinte di pedone, però ha indebolito notevolmente l'arroco. Dona in C2, cercando poi di spingere l'occorrenza, anche una B4, qui la sto valutando, se posso effettuarla fin da subito, B4 lo può spingere, se spinge in G4, io posso andare in H4, G4 indebolisce, ma sì dai, senza paura. Sandokan, Sandokan, la scacchiera, pezzi, la fa, mentre come al solito mi vengono in mente canzoni o visioni. Pensate che una volta ho avuto cavallo F6, qua posso procedere, stavo pensando a centralizzare le torri o spingere subito in C5. Con l'idea di C5, lui non può neanche chiudere, altrimenti di C5 mi regala subito la casa, facciamo torri a Nd1. Mentre vi stavo raccontando alcuni aneddoti, cioè che una volta ho avuto la visione di Pappa Voitua, in un finale molto difficile, tutte a me possono succedere. Torri a Nd1, come ho detto, questa posizione è ancora molto chiusa per il bianco, devo cercare subito di rendermi ancora più aggressivo con C5. Tanto lui qua non può spingere, altrimenti C5 è ancora più corretta perché va ad attaccare l'alfiere Campochiaro e io infatti devo valorizzare dal punto di vista strategico le case scure. Quindi giocare sempre sulle case scure, visto che lui non dispone più dell'alfiere. Cercando di incastonare, ripeto, perfettamente strategia e tattica. Spingendo i 5, ora saltiamo qua. Cavale 5, vado anche a far respirare l'alfiere in fianchetto che per il momento sta soffrendo di claustrofobia in forma grave. Qui cosa può fare? Alfiere in C8 la vedo molto difficile perché blocca la comunicazione fra il lettore. Qui alfiere cattivo, cattivissimo, proprio cattivissimo a me l'alfiere. Quindi proprio con il gioco sui colori il nero non sta per niente bene. Inoltre qua i pezzi bianco hanno maggior dinamismo. Lui qua vuole controbattere con cavallo H5. Dunque cedere l'alfiere qua è comunque uno spreco. Preferisco F3. Il cavallo può rientrare in F6. E qua posso anche mirare anche a un doppio. Cavallo in G6, fin da subito guadagnando la qualità. Ecco che come al solito rischi di essere preso in contropiere, con certe spinte. Però tutto rientra nel copione dell'olandese. Come dicono molti, gli scacchi sono il gioco della coperta corta, quindi non si può ottenere di tutto. E ogni difesa ha i suoi pregi e i difetti. Torre per F8. Bene, adesso finalmente riesco a stare meglio. Qua posso pensare di trovare subito un'apertura a torre in E1, cercando di spalancare tutto, anche alfiere in C1 e in D2. La spinta E4 qua va assolutamente calibrata. Di certo con una qualità di vantaggio alla coppa degli alfieri. Ora mi sento molto meglio. Alfiere in C1 sto valutando. Un po' tranquillo, di certo. Abbastanza esente da rischi. Lui qua rientra. Non posso spingere subito un E4, rischio di perdere, perché c'è anche il cavallo che controlla tutto. Non rimangono tante altre scelte. Procediamo allora in maniera tecnica a migliorare l'attività di tutti i pezzi. Come disse Steinitz, il primo campione del mondo. Il re è un pezzo forte. Usalo, non essere avvara. E qui, lo stesso, minacciando attacchi di scoperta, posso giocare subito un donna in D2. Attacchi di scoperta intendo naturalmente F4. Anche se i pezzi qua sono tutti aggruppati, senza possibilità di attacco. Tempo, tempo. Siamo alla pari. Sei minuti per il nostro caro Sergei, il terribile, che si accinge già a chiudere, trovando invece, a chiudere la partita, cercando di aprire le linee, che sembrano simbolo invece la soluzione per vincere. Poi, se lui mi gioca G4, anche qui non può prendere, perché è una batteria da far scatenare subito, cavallo in D7, qua va a rallentare un po' tutto. Ecco il problema, forse l'unica piccola controindicazione. Proviamo invece con H3, non mi piace tanto. Perché lui ha una posizione troppo tranquilla. Che invece, proviamo qui, anche con H4 non posso spingere. Molto, troppo tranquilla, oserei dire. Cosa posso fare? Cerchiamo anche Alfieri B2, che rimane sempre bloccato, di certo qualcosa in più, posso riuscire anche a ottenerla. Lui spinge, non c'erano neanche grandi rischi. Vabbè, Nc4, forse mi ha fornito l'occasione che aspettavo. cavallo che si accinge, ora controllare subito E4, e allora H4. Con l'idea si accetta. Torino H1, cercando poi di aprire tutto. Se lui accetta, viene reso molto più vulnerabile, anche il pedone F4, poi H6, pressione con i pesci pesanti. di certo non sono obbligato a trovare lo sbocco attraverso le vie centrali, ma la colonna H può essere quella più rovente. Riuscirà il nostro supereroe, il terribile, a vincere questa battaglia, una partita con uno stile molto asciutto, cosa molto rara comunque. E poi, lui è libero sempre di rifiutare, qui su H4, un'offerta che non si può rifiutare, e andrò a cambiare tutto. Attendiamo la risposta. Con un torre H1, per valorizzare i pesci pesanti. Lui è molto furbo, una qualità in meno, cerca subito di tenere chiuse, come tipo catenaccio, tutte le linee. Va bene, rifiuti, peggio per te. H per G5. Pedone caricatura, torre in H1, senza problemi. Wow. Credo che sia assolutamente la migliore, visto che il resto è tutto bloccato, tutto segregato qua. E poi posso anche portare la torre, per esempio, in sesta, creare una batteria, in modo che siano inattaccabili. Il cavallo qua, non ha più alcuna possibilità, non ha alcun futuro. L'alfiere, può soltanto osservare il panorama, e cambiando i pezzi qui, rientro anche in un finale stravinto. Ah, il RG7 mi piace, devo ammettere, perché mi blocca, torre H6, per creare la batteria. E allora posso prendere l'ascensore, qui la manovra dell'ascensore, della torre, cioè una semplice Rook lift, salire al terzo piano, e poi, al primo, la sua compagna, può finalmente sistemarsi nell'angolo. Cavallo sacrificio di pezzo, un particolare. Vabbè, accettiamo, quindi ci sono grandi calcoli da fare, posizioni che rimane. lui sceglie di affidarsi a due pedoni, che poi, come sappiamo, due pedoni uniti, questo lo dice la teoria, sono sempre quelle chicche da ricordare, due pedoni uniti hanno spesso la stessa forza, nel frattempo, qua spingo anche in D6, con una bella catena, hanno la stessa forza di un pezzo leggero. Lui qui risponde, senza problemi, range 1, scacco, quindi cambiamo le donne, in maniera indiretta. Con la presa in E7, anche se qui lo vedo molto male il nero. Forse abbiamo trovato la soluzione, o lo vedremo nella prossima puntata, come nei cartoni. Donne in E6, qui devo subito salvare, e allora andiamo qua in C3, anche se non posso, non ci sono tatticismi particolari, il cavallo è bloccato, sempre importante guardare l'allineamento dei pezzi. Ok, donna per G4, si lancia subito in un controgioco, qua rimane tutto ancora serrato. Che altra si può fare come idea? Una donna e 1, cercando qualche manovra, perché no? Donna e 1, cercando di operare più sulla diagonale, sulla colonna H, anche se lui sceglie di essere un po' più aggressivo in questa fase della partita. Alfiere mi propone anche il cambio, qui rimane tutto inchiodato, poi anche se posso trovare, diciamo donna e F1, essendo costretti, per parare il mato, come osi, ha il piede nella fossa e cerchi di minacciarmi il mato, guai a te. Sergei, vediamo se gioca anche Blitz, qualche bella curiosità, Blitz ha un punteggio inferiore, spiazza, spiazza per Sergei, lasciamolo sfogare un po' sul lato di Re, anche se ormai qui, non dico che il nero sia come in Zuzwang, ma non ci sono tante mosse, Re in G6, la rana bollita, qui sembra, e a questo punto dobbiamo chiudere veramente. Torri in H2, qui ho in mente di affidare la torre, la difesa dell'alfiere della casa G2, per evitare sorprese, e poi si può anche ritentare qualche azione aggressiva sull'ala di donna, dove i pedoni sono stanchi, perché si sono annoiati di rimanere sempre fermi. San Dokan, San Dokan, la scacchiera a pezzi la fa, F3, ma come siamo aggressivi, mio caro amico? Come ti permetti? Presa. Qui il pedone ricattura, posso anche dare scacco, c'era la variante con l'alfiere, stavo valutando, qui Torre Per, qui Donne in E2, andando a inchiodarla, che altro posso fare? Oppure a questo punto si poteva anche provare un Donna C4, non vorrei avere il rimorso, Donna C4, mirare in G8, visto che lui si è scoperto maggiormente, partita tra l'altro, bruttissima, che non mi piace, ma la prossima farò tantamente tanti sacrifici da perdere, come diceva Tal, ci sono due tipi di sacrifici, quelli corretti, e i miei, Torre F1, inutile mio caro amico, adesso ti cambio tutti i pezzi, e ti costringo ad abbandonare! non può fare molto, Torre Per, qui Donne a caricatura, l'unico problema è trovare subito una combinazione letale, però, lui si ritrova sempre di più in Zeitronaut, quindi se c'è qualcuno che deve iniziare a tremare, è senz'altro il nostro caro Sergei, che a forza di nominarlo, lo sto facendo diventare famoso, e poi, non voglio tornare sotto il 2400, come buon auspicio per il 2024, l'obiettivo è di raggiungere anche il 2500 rapid, solo nel rapid, e una cosa peggiore, poi quando affronti avversari con un puteggio inferiore, non capirò mai le formule utilizzate sull'icesimo in generale nel gioco online, allora, qui cosa possiamo fare? Qualche sacrificio, no, qui non c'è niente, torre H3 mi deve acontentare, di sicuro è buona, torre H3, la donna può andare in G4, mantenendo sempre la solita inchiodatura, e di certo potrò finalmente allontanare il pezzo che difende E5, quindi su donna in G4, alfiere per, su uno scacco, non c'è alcun problema, basterà cambiare tutto, scappi in F2, cambio delle donne, e vai col tango. Mentre il tempo passa, donna per F4, dai amico mio, abbandona, non farmi arrabbiare anche tu, con quale pedone vuoi riprendere? qui posso andare anche sul pedone per, non lo prendere col pedone G, non abbiamo problemi, qui anche un alfiere per E4 immediatamente, il cavallo qui ricattura, io spingo un D7, perché ormai il cavallo l'abbiamo deviato dal controllo della casa D7. mio caro amico, hai 55 secondi, qui devi abbandonare. G2, ma come siamo aggressivi, quanto coraggio, quanto coraggio, alfiere C3, ti sacrifica un pezzo, tanto il problema qui, numero uno, è il pedone da diestire, guarda come sono gentile, però, solo perché è finito da poco il Natale, almeno nel momento in cui sto registrando, quindi siamo rimasti tutti un po' buoni. Mi dispiace, ma a questo punto c'è una mossa che può fare qui, Sergei, una mossa da due punti esclamativi, ovvero, abbandonare, abbandona, ordine imperativo, e dai, lasciami qualche punto, così almeno sono sicuro di non scendere sotto il 2004, ancora una volta, niente, quindi ci siamo, e niente, è un giocatore modello, torre per C3, alla fine, non ho manco sacrificato il pezzo, era uno pseudo sacrificio, il pedone qui aspetta, non mi ha fatto promuovere il pedone, ma ti ringrazio per aver abbandonato, partita un po' noiosetta, così, mi ha chiesto la rivincita, e va bene, adesso concludo il video, iscrivetevi, ci vediamo alla prossima.